Il diffondersi del contagio da coronavirus ha costretto il governo italiano a prendere provvedimenti straordinari riguardanti soprattutto i luoghi pubblici, quelli cioè dove potenzialmente la diffusione del virus può essere facilitata dalla prossimità di tante persone. Tra essi ovviamente le scuole rappresentano il luogo per eccellenza, quello deputato alla formazione dalla crescita personale e culturale delle generazioni e dunque un rinunciabile ed imprescindibile punto di aggregazione. La chiusura delle scuole è stata una decisione sofferta perché ha impattato su diversi aspetti del vivere quotidiano di tantissime famiglie ma che è apparsa necessaria al fine di contenere appunto la diffusione dell'epidemia. Come garantire però il proseguimento delle attività didattiche per i discenti? In soccorso arriva la tecnologia con le learning, vale a dire con tutta una gamma di soluzioni che mira l'apprendimento a distanza senza contatto fisico. Le modalità di erogazione sono tantissime, si va dalla lezione frontale registrata alla possibilità di sostenere test di valutazione ed autovalutazione online. Dall'interattività tramite sistemi VoIP qual è ad esempio il conosciutissimo Skype alla possibilità di realizzare vere e proprie classi virtuali tramite strumenti quali Google Classroom o veri e propri portali dedicati qual è ad esempio Moodle. Per l'accesso è necessario soltanto un pc ed una connessione ad internet. Le learning consentirà e già sta consentendo agli studenti di non rimanere indietro con i programmi di insegnamento, di fatto sperimentando sul campo l'apprendimento a distanza come antidoto alla forzata chiusura delle scuole. In un paese come l'Italia, al 24esimo posto della UE quanto a indice di digitalizzazione dell'economia e della società e che ha appena il 20% del proprio corpo docente in possesso di un corso formativo in materia di alfabetizzazione digitale, il coronavirus rappresenta non solo una sfida sanitaria da vincere, ma anche un'enorme opportunità trainante per un settore, quello appunto dell'apprendimento a distanza, ancora poco e mal conosciuto ed altrettanto poco e male sfruttato. Tolte pochissime eccellenze, quale ad esempio l'Università Telematica Pegaso da 14 anni nel campo, le scuole e le università italiane sono ancora lontanissime dall'offrire una didattica capace di essere trasmesse e divulgata, pur con i potentissimi mezzi che il web offre. dunque una sfida nella sfida per scuole e docenti, per battere il coronavirus anche e soprattutto sul piano culturale.